Un'iniziativa molto semplice, proprio perché è nata un'app che si chiama Slow Food Planet, curata da un genio signoroni che tra poco ci racconterà. L'app è un sistema gratuito in questo caso, quindi te la puoi scaricare sul cellulare, che oramai è lo strumento più utilizzato nel quotidiano. Su questa app ci sono informazioni in particolare dove mangiare e bere, dove acquistare e altre informazioni del genere. In Italia, e in particolare in Piemonte, dal 15 giugno al 30 settembre, 100 locali su questa app promuoveranno Laudato Si attraverso un abbinamento, un dolce abbinato a una coppa di Moscato o Asti di Ocigini. Quindi riceveranno un formato grafico già con il dolce abbinato alla coppa e la spiegazione del progetto Cos'è Slow Food Planet, Cos'è Laudato Si. Un euro per ogni piatto verrà dall'oste devoluto al progetto del Centro di Ricerca Internazionale di Amatrice, che rientra nel progetto più ampio delle reti delle comunità Laudato Si. Grazie. Grazie.